Chi la sottovaluta perché ritiene che non sia pericolosa e chi la sottovaluta perché ritiene che non serva a nulla? Una cosa sicura, lo sapete, è che nel mondo del business e del lavoro è straordinariamente utile. Ci aiuta a fare tutto più velocemente. Quante volte abbiamo preso un testo e gli abbiamo detto vai, soprattutto noi, questa è una idea di professionisti, no? Mediamente, siete tutti professionisti qui e quindi tutti sapete distinguere il risultato dell'intelligenza cosiddetta artificiale, se è corretto o no. Certo, se la do in mano ad uno che non conosce questo mondo è evidente che, boh, quello che produce lo dà per buono. Infatti questo è un grosso problema per il mondo degli studenti, di chi sta imparando, perché non si può imparare su quello che eroga l'intelligenza artificiale in quanto è imprecisa.